Il tema dell'intervista di oggi per la rubrica social il medico risponde di Unisalute è l'infatto del mio cardio. A parlarci nel professor Ettore Squillace Greco, specialista in cardiologia presso la clinica Sanatrix di Roma. Sono Ettore Squillace Greco, sono il cardiolo responsabile del centro cuore aritmia della casa di cura privata Sanatrix. Rivesto il ruolo di responsabile della cardiologia del pronto soccorso di tutta l'idea dell'ospedale Sant'Andrea, nonché policlinico universitario e facoltà di medicina della città di Roma. Professor Squillace, le malattie cardiovascolari costituiscono ancora oggi in Italia uno dei più importanti problemi di salute pubblica. Tra queste troviamo l'infarto del mio cardio, comunemente indicato come attacco cardiaco. Può spiegarci cos'è esattamente e quali complicanze sono legate a questo evento? Certamente, l'infarto mio cardio acuto che colpisce ovviamente il cuore, ma nella fattispecie le coronarie che erorano il cuore, rappresenta ancora oggi una delle cause principali di morte nella popolazione mondiale, ma soprattutto nei paesi industrializzati. In che cosa consiste? Consiste nella occlusione di una delle coronarie principali del cuore, che portano quindi ad una mancata erorazione di parti principali del cuore, per cui il paziente spesso si porta le mani al petto, ha questo attacco cardiaco, si crea questa mancata erorazione del cuore, quindi questo infarto, che spesso se non si sopraggiunge entro i 90 minuti, nel riaprire la coronaria responsabile di questo infarto, si può anche morire. Professore, ci dettagli meglio l'importanza di intervenire entro i 90 minuti? I 90 minuti sono importanti dall'esordio del sintomo angina, in quanto i 90 minuti sono il tempo massimo per riaprire una coronaria. Cosa significa riaprire una coronaria? Che appena il paziente ha il dolore, che potrebbe essere sospetto di angina, il paziente si deve recare subito al primo pronto soccorso, attivare una sala di emodinamica e il paziente deve sottoporsi ad una coronarografia in urgenza per poter riaprire in tempi rapidissimi la coronaria affinché l'occlusione della stessa coronaria non abbia provocato l'infarto e quindi una morte cellulare del cuore. Ma quali sono i sintomi più frequenti dell'infarto del miocardio? I sintomi più frequenti dell'infarto del miocardio sono la classica angina. Angina significa dolore, dolore al cuore e quindi alla parte sinistra del torace, con irradiazione al braccio sinistro, dietro le scapole, qualche volta anche in sede epigastica dove c'è lo stomaco e qualche volta ancora anche sulla mandibola, tant'è che molti pazienti confondono l'angina con un dolore dei denti o a volte anche con un dolore di stomaco. Professore, come si diagnostica l'infarto del miocardio e soprattutto in quale fase dell'evento avviene la diagnosi? Nella fase acuta dell'infarto è necessario distinguere il dolore, il sintomo angina, quindi il dolore toracico che sia un dolore toracico tipico, cioè un dolore toracico che non si modifica né con gli atti del respiro, né con la flesso estensione del tronco e neanche con la digitopressione, premendosi il torace. Per definizione l'angina è un dolore al petto che non si modifica con nessuno di queste condizioni. In fase acuta bisogna fare un elettrocardiogramma e degli enzimi cardiaci, in particolare la troponina ultrasensibile, che ci danno appunto l'indicazione, ci danno la certezza che c'è un infarto miocardico acuto in corso. Molto spesso ci troviamo di fronte ad infarti avvenuti già qualche giorno prima. In quel caso lì, oltre all'elettrocardiogramma e al sintomo, sicuramente la diagnostica di laboratorio e un'ecografia al cuore fatta in maniera, come dire, dettagliata ci danno le dimensioni e la tempistica dell'aria infartuale. Cos'è e come funziona la TAC coronarica? La TAC coronarica è una TAC multistrato in cui il paziente si mette disteso su un lettino e questo meraviglioso strumento che oramai ha preso piede in tutto il mondo ha la possibilità, mediante un minimo mezzo di contrasto e una minima esposizione ai raggi X, stratifica, fa un'analisi in strati di tutto il cuore di tutte le coronarie ed è un esame diagnostico che dura pochissimi minuti, non invasivo, che ci permette di capire subito se il cuore di questo paziente è un cuore con delle coronarie malate o no. Professore, ma il rischio di infarto, ci dica, è uguale per uomini e donne? Quali sono i fattori che contribuiscono all'evento e quali eventualmente possono aiutare a prevenirlo? Diciamo che il rischio è pressoché uguale, chiaramente la donna finché ha il proprio ciclo mestruale è sicuramente più protetta rispetto ad un maschio che non lo è mai, ma la fa da padrona sicuramente la familiarità della serie che se in famiglia si ha un genitore o un parente stretto che ha avuto un infarto e allora quasi tutti noi abbiamo una grossa probabilità purtroppo di poterne subire uno anche noi. Non c'è una grande differenza tra uomo e donna dal punto di vista sia della prognosi eccetera, ma sicuramente l'uomo che fuma, la donna che fuma o la donna che assume l'anticoncezionale ha sicuramente un rischio maggiore rispetto ad un soggetto normale. Gli altri fattori di rischio sono sicuramente la dislipidemia, cioè un colesterolo o i trigliceridi elevati nel sangue, una glicemia quindi il diabete che sono sicuramente questi fattori molto molto importanti e in più in ultimo l'ipertensione arteriosa che è uno dei fattori che contribuisce sia l'uomo che la donna ad avere una maggiore probabilità di avere un infarto neocardico acuto. Parliamo adesso di prevenzione che è una tematica di enorme interesse per tutti gli utenti. La prevenzione è per prima cosa cambiare il proprio stile di vita, quindi smettere di fumare, iniziare a fare attività sportiva, regolare il proprio peso corporeo, stare molto attenti ai valori di colesterolo, trigliceridi, colesterolo cattivo LDL, colesterolo buono HDL e soprattutto alla glicemia. È molto importante farsi accompagnare ad una menopausa molto controllata, soprattutto per quanto riguarda l'assetto ormonale. Per gli uomini è molto importante, soprattutto gli uomini che poi stanno per andare in pensione e poi ad un certo punto si mettono nelle pantofole e si siedono sul proprio divano, sulla propria poltrona, a non fare tutto ciò ma a continuare a lavorare, a muoversi, a camminare, a fare sport, eccetera. È importante fare ovviamente dei controlli periodici in base anche all'età dei pazienti e al sesso. Ovviamente insomma i ragazzi fino a 40 anni, parlo di sesso maschile, direi che basterebbe anche semplicemente fare un elettrocardiogramma e magari così ogni qualche anno fare anche un'ecografia al cuore. Ma superato il quarantesimo, quarantacinquesimo anno di età, uomini e donne dovrebbero iniziare a fare annualmente un check cardiovascolare che consiste in una visita cardiologica con una raccolta anamnestica dei fattori di rischio, della familiarità che è molto importante, dello stile di vita e delle malattie pregresse, fare un elettrocardiogramma, sottoporsi ad un'ecografia al cuore, un elettrocardiogramma sotto sforzo che è un po' il test della verità per noi cardiologi. Ovviamente i pazienti che hanno avuto dei pregressi, eventi cardiaci, vascolari o cardiovascolari, i controlli devono essere più ristretti nel tempo, quindi anche semestrali. Ma soprattutto i pazienti che hanno già avuto un infarto o comunque hanno avuto delle problematiche vascolari periferiche, mi viene in mente patologie carotidee, delle arterie carotidi che sono questi grossi vasi che collegano il cuore al cervello o delle arterie degli arti inferiori, allora questi sono pazienti altamente a rischio, per cui ribadisco il controllo deve essere molto più ravvicinato nel tempo. Professore, ci tolga una curiosità, morire di crepa cuore, cosa possiamo dire? È un modo di dire, è un falso mito oppure è una situazione che può realmente verificarsi? Purtroppo è una cruda realtà, veniva chiamato crepa cuore e nel mondo odierno si chiama sindrome di Takotsubo perché Takotsubo è un collega cardiologo giapponese che scoprì questa sindrome ed è un infarto a coronarie sane che avviene con maggiore incidenza nelle donne piuttosto che negli uomini, soprattutto dopo delle crisi importanti emotive, degli shock, dei traumi eccetera, per cui spesso giungono alla nostra osservazione queste persone con un infarto vero e proprio, noi andiamo a fare una coronarografia e troviamo delle coronarie completamente sane. Molto spesso arriviamo in tempo e riusciamo a salvare il paziente, tante altre volte purtroppo non succede. Quindi l'aspetto emotivo è molto molto importante nella prevenzione, nella cura dell'infarto miocardico. Sul tema infarto del miocardio gli utenti Facebook di Unisalute hanno posto per lei molte domande, ne abbiamo scelti alcune. Iniziamo con Marco, 47 anni, che ci scrive, ho sempre mangiato bene, sono una persona molto dinamica, ma un anno fa ho avuto inaspettatamente un infarto. Ora non so come riprendere la mia vita normale perché ho paura di tutto. Può aiutarmi, professore? Dopo un infarto ci si può riprendere benissimo a fare la propria attività lavorativa, nonché la propria attività sportiva. Ovviamente dipende dall'entità dell'infarto e sicuramente un fattore importante è il regime dietetico che bisogna seguire nel post-infarto. Bisogna essere magri, bisogna evitare di mangiare grassi, bisogna stare attenti agli zuccheri, controllare tutti quei fattori di rischio che hanno portato all'infarto. Molti pazienti che hanno subito infarto e che dopo nel post-infarto hanno seguito queste regole sono ritornati a giocare sul campo di caccetto, a giocare a tennis, a pallavolo, a basket, a nuotare, eccetera. Professore, a Marco, rispetto agli aspetti psicologici, possiamo dare ancora qualche suggerimento? Noi cardiologi consigliamo sempre in questi casi di affidarsi anche ad uno psicologo per poterne parlare ed uscire da quel famoso tunnel in cui si trovano molti pazienti, uomini e donne, che hanno subito un trauma del genere. Continuiamo poi con Vincenzo che ci dice che quattro anni fa ha avuto un infarto acuto del mio cardio e ci chiede, oggi prendo ancora il Brillic, è normale? Direi di no. Dipende poi che tipo di infarto ha subito il nostro Vincenzo e quanti stent ha inserito nelle proprie coronarie. In realtà il Brillic, che è un antiaggregante di ultima generazione, si usa nei primi sei mesi barra un anno dall'inserimento degli stent durante coronarografia in corso di infarto, per cui procrastinare per altri quattro anni il Brillic mi sembra una cosa eccessiva, però ribadisco dipende dall'estensione dell'area infartuale, dal numero di stenti inseriti e ovviamente dagli altri fattori di rischio di cui soffre il nostro Vincenzo. Continuiamo poi con Nadia, 70 anni, infartuata nel 2006. Ha sempre eseguito controlli annuali e il mio problema, ci racconta, è l'aumento di peso, 5 kg dall'infarto. Nonostante, per mia abitudine, dovuta a una certa inappetenza fin dalla giovane età, non superi mai le 1000-1200 kcal giornaliere. Suppongo che la causa possa essere legata all'assunzione degli isoptin 120, come riscontrato da un'amica che ha ritrovato il peso originario dopo averne smesso l'assunzione. Gradirei un suo parere, professore, grazie. Direi che sicuramente il controllo del peso corporeo è molto molto importante nel posto infarto, cioè i pazienti che hanno subito un infarto devono essere magri. L'isoptin, come tanti altri farmaci che noi usiamo nell'infarto, possono creare un disturbo dell'alvo, la famosa stitichezza, per cui pazienti magari che già ne soffrivano o magari anche no, potrebbero avere un disturbo del genere e provocare quindi un mancato svuotamento intestinale. Ma dare la responsabilità all'isoptin per un aumento del proprio peso ponderale mi sembra una cosa che non ci sta. Quindi verosimilmente credo che alla base ci sia o una disfunzione ormonale molto importante controllare la propria tiroide, soprattutto nelle donne ma anche negli uomini, e affidarsi ad un nutrizionista valido. Giulia invece racconta che il marito ha avuto un infarto da poco. Forse abbiamo sbagliato, ci dice, ma per sicurezza abbiamo richiesto consulenza a diversi medici e ora abbiamo pareri discordanti. Secondo lei, dottore, quali controlli sono importanti dopo l'infarto e ogni quanto bisogna farli? Direi che affidarsi a diversi pareri è sbagliato. Bisogna sempre affidarsi ad un solo parere, anche perché bisogna, come dire, avere fiducia in una sola persona e seguire quella persona che, nella fattispecie, dovrebbe essere poi il cardiologo di riferimento durante tutto il percorso del post-infarto. I controlli sono normali, sono sempre annualmente la visita cardiologica con un elettrocardiogramma, un'ecografia al cuore, un elettrocardiogramma sotto sforzo, ma soprattutto fare un attack delle coronarie nel post-infarto per andare a ricontrollare eventuali altre stenosi coronariche, ma soprattutto lo stato degli stent coronarici. Lidia chiede, infine, sono una sportiva, mi è sempre piaciuto fare running e andare in bici, posso continuare a farlo? E se sì, con quali accortezze? Assolutamente sì, ovviamente prima di fare running o bicicletta, perché sono degli sporti aerobici impegnativi, sarebbe meglio fare un elettrocardiogramma sotto sforzo e quindi testarsi prima. Durante un elettrocardiogramma sotto sforzo noi abbiamo la possibilità di andare a testare quale potrebbe essere la frequenza cardiaca massima teorica in ognuno di noi, quindi qual è lo sforzo massimo che potremmo raggiungere e soprattutto andare a vedere anche i valori di pressione arteriosa, molto importanti per chi ha avuto un infarto, ma anche per chi non ha avuto un infarto. Per cui la risposta è sì, fare sport, fare running, fare bicicletta, ma fare prima, testarsi e fare un elettrocardiogramma sotto sforzo. Si chiude qui l'intervista al professor Squillace Greco, che ringraziamo per la disponibilità e per la chiarezza con cui ha risposto ai nostri quesiti. E vi ricordiamo di seguire sui canali social di Unisalute, sul blog In Salute, le interviste e gli articoli della rubrica Il medico risponde. Grazie per questa intervista. Prendiamoci un'ora di tempo per il benessere del nostro cuore. Mi raccomando, facciamo i controlli con una visita cardiologica, un elettrocardiogramma, un'icografia al cuore, un elettrocardiogramma sotto sforzo e un'attac coronarica. Mi raccomando, sulle vostre abitudini di vita, non fumate, mangiate bene, ma soprattutto la raccomandazione è il tempo e muscolo. Prima si riapre una coronaria, meno danni facciamo sul nostro cuore.